L'Ufficio delle Pietre Dure da sempre collabora con le Gallerie degli Uffizi e in particolar modo per i suoi grandi capolavori. L'Istituto nel tempo ha restaurato ben 15 dipinti su tavola di Raffaele e quindi ha acquisito una grande conoscenza dei suoi materiali, della tecnica artistica di Raffaele e dei suoi problemi conservativi. Questo ci ha consentito di affrontare questo ennesimo progetto realizzato nell'anno in cui si ricorda la morte giovanile di Raffaele il restauro del ritratto di Leone X che ha già dato bella mostra di sé alla stupenda mostra istituzionale fatta alle Scuderie del Quineale e qui lo presentiamo con tutto l'apparato didascalico che spieghi le scelte del restauro. Il dipinto era già stato restaurato numerose volte incominciando da quando era stato requisito dai francesi e restaurato a Parigi. Quindi pur essendo sostanzialmente in condizioni discrete ma aveva molta materia non originale sovrammessa che apparentemente non dava tanto fastidio ma che in realtà grazie alla splendida pulitura realizzata da Oriana Sartiani ha rivelato ancora più potentemente la forza, la bellezza l'impostazione stilistica di Raffaello tagliando per sempre a mio avviso ogni possibile dubbio anche nel rapporto tra il Papa e i due cardinali dietro. L'indagine tecnica ha dimostrato che il dipinto è stato realizzato così e il fondo scontorna le figure dunque non sono certamente state aggiunte dopo e la qualità di Raffaello è prepotente in tutte e tre le figure. Questo è stato possibile grazie a una lunga campagna di indagine di cui qui diamo brevemente conto che ci ha consentito di mettere tutta la nostra esperienza e la nostra metodologia al servizio anche di questo dipinto di Raffaello e restituirlo in pienezza alla fruizione del pubblico e degli studiosi. È tornato dopo il restauro di oltre due anni è tornato anche dopo la grande mostra nazionale monografica dedicato a Raffaello, il ritratto di Leone X e dei due cardinali. Ora anche a Firenze c'è la possibilità di ammirare questa opera ma qui è contestualizzato con le ricerche scientifiche che sono stati condotti e queste vengono esplicitate, vengono spiegate al pubblico anche grazie a molte fotografie, a tabelle in maniera di capire proprio per bene tutti i risultati tutte le novità che sono venuti fuori dal restauro tra cui quello più importante da un'analisi tecnologica il fatto che è tutto fatto da una mano e quindi i dubbi che c'erano sull'eventuale non-autografia di alcune parti in questo quadro sono completamente ingiustificati è tutta un'opera di Raffaello, un capolavoro di Raffaello è una vera e propria sinfonia in rosso con tonalità di rossi diversi tra di loro e stoffe che vengono raffigurati in questa maniera è proprio un ritratto non soltanto di tre persone ma anche della materialità dei tessili in questo quadro